I fattori produttivi a fecondità semplice invece sono quei fattori produttivi che possono partecipare a un solo processo produttivo. Alcuni esempi sono le materie prime, i semi lavorati, la mano d'opera stessa, il trasporto, la mano d'opera intesa come ora, come tempo trascorso dall'operaio, dal collaboratore aziendale all'interno del processo produttivo. Quindi quell'ora, quel determinato momento passato, in quel determinato giorno non può essere utilizzato ulteriormente. Ecco perché è a fecondità semplice. Anche i servizi come il trasporto, le lavorazioni, eccetera.